Ips Italia è il più grande distributore per quotidiani e riviste internazionali in Italia. Ips Italia è il partner ideale per qualsiasi editore che voglia raggiungere i suoi lettori, dalla stampa digitale del giornale alla consegna della copia al punto vendita. Ips Italia, oltre 60 anni di competenza per il tuo successo. Ips Italia, oltre 60 anni di competenza per il tuo successo. Buonasera, buonasera e benvenuti a Newsroom. Siamo qua anche stasera naturalmente per andare ad approfondire alcuni dei temi che riguardano la città, il territorio in particolare. Naturalmente stasera parleremo di politica e di tutto quello che ci gira intorno. E lo faremo, come sempre, con un ospite. È tornato a trovarci il consigliere comunale, nonché consigliere di città metropolitana, Giacardo Frascarelli, che saluto e ringrazio per essere il nostro ospite. Buonasera, Frascarelli. Buonasera a Savano Pettinari. Buonasera a tutti i radio, telespettatori. Era un po' che non ci vedevamo. Però quando ci chiama lei, noi anche di corsa... Odiamoci del tu, odiamoci del tu. Ci diamo del tu, anche se io so sempre dell'idea che la professione è importante per chi ci ascolta, e quindi il rispetto del ruolo, perché è un lavoro, Stefano, non è che... Magari qualche politico lo fa per hobby. Ti do del tu, Stefano. Sì, sì. Quanto ci impieghi e quanto impegno ci metti nel tuo lavoro, e quindi io lo rispetto, è la mia forma di rispetto. Allora... Anche se sono venuto in tuta, oggi mi scuso, credo di spettatore, in tuta sportiva. Sei uno sportivo. Ecco, ho riconosciuto ad essere uno sportivo. In un certo livello, insomma, tra l'altro. Federazione Italiana Nuoto, insomma. Senti, invece, parliamo appunto di politica. Ho capito, domani mi attaccheranno, ecco, andate apposta. Invece, tu sai che è casuale, ecco lì, chi sta in mente, cosa dovrò fare? No, 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 no. Lasciamo gli ghiacchierati. Allora, veniamo appunto alle questioni di carattere politico, perché insomma, diciamo che in questo periodo il tema che è un po' quello che cattura l'attenzione è questo riguardante appunto il phase out della centrale a carbone di Torre Vandalica Nord. Ci sono vari interventi. Qual è la tua idea? Cioè, secondo te che cosa bisognerebbe fare per cercare, insomma, di non fare in modo che l'Enel saluti e se ne vada? Assolutamente d'accordo con le due parole finali, che poi fanno parte di quello che è stato un programma elettorale che io ho comunque condiviso, ho rappresentato, portando qualche consenso, non tantissimo, come dicono, però qualcuno l'ho portato anche io anche questa volta e mi ero legato a un progetto soprattutto perché vedeva il mio candidato puntare molto sul phase out, proprio nei primi cento giorni. Insomma, cercare di distinguere la politica a lungo raggio, ossia tutte quelle che sono quelle energie che comunque, alternative, che servono, che sono, diciamo, salutari per il nostro pianeta, non solo per la nostra penisola, che è molto piccola, però sappiamo benissimo che sfruttare il mare è importante. Ci sono delle idee che questa amministrazione sta portando avanti, io l'ho sentito proprio in una delle trasmissioni che tu hai qualche tempo fa, dove tu hai invitato, mi sembra, anche il sindaco o altri, diciamo, attori principali di questo governo attuale, però io ritorno all'inizio, vengo da una fase in cui c'è stata un'elezione, il programma del mio candidato vedeva proprio cercare di sfruttare con dei progetti innovativi, ma veloci, di ampio raggio, sfruttare il retroporto, unirci ai progetti lasciati come quelli del PNRR che vedono comunque l'autorità portuale spostarsi, cercare di attrarre energie alternative, non solo energie come energia in materia di, no, fisico, ma energie, ossia risorse di altra natura, altre progettualità che possano far crescere ancora di più questa società e finalmente dire addio a quello che è stato un percorso, io non voglio dire una schiavito come c'è chi dice, l'Enel in un certo qual modo ha fatto anche comodo, no, alla città e alle amministrazioni. Diciamo che su alcune trasformazioni io non sono stato mai d'accordo, facevo parte, lo ripeto sempre nella seconda circoscrizione, avevo con me un amico dei NoCoc, ero contrario, però, e mi scontrai con l'amministrazione di governo di quel periodo, perché quando non si condividono le scelte è giusto fare una sana politica all'insegna della democrazia e del pensiero libero. Però dico oggi, io mi concentrerei molto più a cercare di fare un tavolo, i consigli che do anche al sindaco attuale, che è il sindaco poi di tutti, Marco viene di bene, soprattutto sperando in una riuscita di accordi e di intenti, ma anche pensando ai giovani del nostro futuro, le scelte di oggi saranno importantissime per i nostri giovani della nostra città. Quindi unire lo sviluppo di questa città, che oggi ha la possibilità di ingrandirsi al proprio interno, riordinare la viabilità e fare una politica di accordo con l'Enel per non andare via subito, ma cercare di tutelare i lavoratori, ma soprattutto prepararci anche a nuove alternative. Mi sembra che Massimiliano, ho ben spiegato, Massimiliano Grasso, per chi ci ascolta, perché Massimiliano, Giorgio, Francesco, Massimiliano Grasso, ma è conosciuto, mi sembra che abbia spiegato, cercando di far capire, nell'interesse della città senza fare polemica, attenzione Marco, sì, siamo per l'eolico, siamo per le vale, ma ci vuole tempo per andare a regime, cerchiamo di fare qualcosa insieme e su questo io vedo un grande dialogo, ho conosciuto anche l'altro candidato che è Paolo Poletti, una persona capace e bravissima, io spero che Marco, ma credo che Marco sia una persona di dialogo, non sia una persona arrogante, non arrogante con carattere, nei toni, arrogante al puntista so tutto io. Mi sembra una persona molto capace, molto di recepire e credo che noi abbiamo delle figure nel nostro Consiglio Comunale, tanto in maggioranza che in opposizione per poter ragionare. Sono convintissimo che se la politica oggi all'insegna proprio della fase finale di questo percorso di Enel, chiamato Face Out, che vede la fine, le forze si mettono tutti insieme per trovare un intento e andare insieme, perché noi poi rappresentiamo le forze di governo e quindi andare ad aiutare la maggioranza che è diciamo a livello governativo alle forze di opposizione. Come sono stati fatti i tavoli per esempio per andare a firmare, a siglare, mancavano delle firme del PNR e quindi dell'acquisto di tutti quelli che sono i terreni, le proprietà di talcementi, mancavano le firme, è andato Marco accompagnato, è andato da Salvini ed è giusto cercare di unire le forze in un momento in cui c'è possibilità veramente di sfruttare tutta quell'area, di far crescere Cigliecchia all'insegna dell'ambiente. Chiaramente tuteliamo anche quello che ci avevano lasciato in essere, io quando sento parlare di non realizzazione dei boschi, di taglio di alberi, soprattutto dagli ambientalisti dico no, allora mi fate ritornare con l'uomo di opposizione che era una volta. Io mi aspetto da questa amministrazione che ha sempre combattuto, ha sempre fatto una ragione di vita politica, dico alcuni temi che si concentra su questo e mi sento anche salvaguardato perché comunque io la penso così, oggi più che mai ci rendiamo conto, se andiamo a vedere nel panorama televisivo che per andare per esempio la caccia all'oro sta distruggendo una delle foreste più importanti del nostro pianeta. Allora dove si deve fare affari non si guarda all'ambiente e in questo la politica deve cominciare a fare differenza. Allora la scorsa settimana io avevo ospite il N, un segretario del Partito Democratico Enrico Luciani e naturalmente anche con lui abbiamo trattato questo tema, sia anche all'interno del discorso Carbone. Esatto, sia sul discorso appunto della dismissione della centrale che sul discorso del bosco. Luciani ha detto una cosa come sempre, insomma lui è molto, lo conosci, è molto passionale nelle sue esternazioni e diceva è inutile che l'Enel intervenga su questo discorso del bosco perché il bosco non è roba sua, il bosco è roba della città, quella era una compensazione che l'Enel ha dato alla città per la realizzazione della centrale. Ha detto bene. Si ha detto questo, ha detto bene Enrico Luciani, il bosco è un'aspettativa di tutti i cittadini, è un polmone. Io perché ho fatto l'esempio delle foreste dell'Amazzonia, Stefano? Ha detto pure che sono delle piante di barbabietola, anzi di broccoli. Vabbè, allora qui si dovrebbe concentrare per farci invece i biroccoletti di metterci delle cose più, 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 diciamo, di impatto a livello di... Non si dovrebbe crescere, diciamo, queste piante. Però esistono anche le piante cresciute che costano di più e visto che l'Enel è, come si dice, stata per tanti anni e ha sfruttato il nostro territorio, non dico quando si parla di sfruttare che ha utilizzato un malo modo, ha utilizzato, sfruttato il nostro territorio perché in alcune parti si dovrà fare una importante bonifica, non è che si tolgono tutta la struttura, il cantiere Enel è così. Quindi tu sai che dopo lo smantellamento il comune dovrà fare un'opera di bonifica per renderla poi appetibile per altri investimenti. Allora io dico, fare un investimento tra piante, diciamo, giovani, meno giovani, le piante ci sono di tante razze, del resto proprio questa amministrazione vuole fare dei, non carotaggi, però vuole degli strapianti, come si chiamano, cercare di, per non abbattere gli alberi del mercato, cercare di fare tutto intorno una sorta di lavoro per strapiantare e ripiantare. Quindi perché non... Ma si vendono, non basta andare su internet, si vedono. Certo. Piante di ogni tipo che sono già pronte a fare da polmone, poi quelle invecchieranno e intanto cresceranno i giovani. Ma insomma i ragionamenti Stefano si possono fare. Chi non li fa o perché è pigro o perché non ha competenza o perché ha altre idee in testa. Un altro ragionamento che ha fatto sempre Luciani, che insomma, no, io all'inizio pensavo fosse una provocazione, invece in realtà poi lui ci credeva davvero, è quello ha detto, chiediamo all'Enel la liquidazione, una sorta di trattamento di fine rapporto, cioè deve pagare tutti quelli che hanno lavorato, tutte le ditte, eccetera, eccetera, mettesse mano al portafoglio e pagasse tutta questa gente che dall'oggi al domani praticamente non lavora più. Ora io ho contestato, tra virgolette, naturalmente lui, dicendogli, ma non è prevista una cosa del genere però per quello che riguarda il contratto che è stato firmato all'epoca con l'Enel. Quando c'è solo il comune, quando l'Enel fa gli insediamenti in subentra la competenza e ministeriale. Lui però mi ha controbattuto, mi ha detto perché che l'Enel l'ha rispettata, perché in realtà doveva chiudere nel 2034, chiude nove anni prima, dieci anni prima e quindi a questo punto si deve aprire una trattativa che può portare anche a questo. Una trattativa dove l'Enel dovrà elargire dei fondi per la città a compensazione del fatto che chiude dopo, questo potrebbe essere un ragionamento. I fondi potrebbero essere di ogni tipo, o soldi che entrano ai capitoli del bilancio per quadrare il bilancio, per fare degli investimenti, oppure iniziative che l'Enel può mettere a disposizione la città. Vedremo cosa faranno, governano loro, noi potremmo fare delle proposte. Io sono sempre dell'idea che ho d'ortocollo cercare ormai di avvicinarci il più possibile, concentrarci su un tipo di progetto importante che può essere il proseguo, proseguo dal punto di vista turistico, perché questa è una bellissima città. Io spero che riparta, mi ci sono battuto, il Marina Yachting, tutti questi progetti che secondo me fanno crescere tanto la città, le attrazioni che noi abbiamo perduto, il discorso della realizzazione di un altro porticciolo dove non c'è un bacino che va in competizione con Civitavecchia, che si vuole fare qua vicino. Tra l'altro parliamo della stessa autorità di sistema. Queste situazioni a me danno fastidio perché si mettono in contrapposizioni le città, ma soprattutto il porto stesso che si deve, diciamo, al proprio interno contraddire, no? Perché poi il presidente dell'autore viene il presidente del porto di Civitavecchia e quindi io dico perché la politica non deve avere questi errori. Noi abbiamo la possibilità finalmente di far diventare questa città turistica davvero. Se noi avessimo oggi le terme, noi saremmo una città centrale, al centro d'Italia inimitabile. Purtroppo non ce l'abbiamo e la politica... Cioè ce l'abbiamo, l'acqua c'è. Non ce l'abbiamo come si deve, come attrazione vera, dove qua vicino sono più bravi di noi perché la politica ha fallito. Mi ci metto per primo io che faccio da tanti anni politica, anche se non ho mai potuto gestire da vicino e direttamente se no avrei firmato subito. E tu lo sai Stefano, di che male patisco. Perché in modo disinteressato ritengo che quello sia l'investimento naturale dopo il porto della città. Quando Traiano è venuto e individuato il bacino ha trovato anche le terme. L'acqua tant'è che anticamente arrivava proprio là. Ma voi vi immaginate se non fosse stata chiusa quella condotta e se oggi noi al viale avessimo potuto godere di vasche termali quello che avremmo potuto organizzare, ideare intorno a un progetto di questo tipo. E allora questa città, io quando vado a Montecatini dico c'è turismo tutto l'anno. Montecatini rispetto a Ciechia non è neanche un quarto delle potenzialità. Eppure è una città, dico bagnata dai turisti, perché ci vanno in continuazione. Noi non l'abbiamo saputo cogliere questo. E la responsabilità è sempre della politica, non dei colori politici, della politica rappresentata dai politici. Quindi le terme sarebbero sicuramente un altro di quegli aspetti. Con questo sviluppo PNR. Noi abbiamo il centro città che va via. Dall'Italcementi in poi ci sono minimo sette etteri, ma sono di più, che si aprono per fare viabilità, parchi, giochi, servizi e cultura. Nella cultura intendo anche le università. Quindi dico Stefano, abbiamo idea di quello che si apre al centro Ciechia. Si riordina la viabilità, imbottogliata dalla chiusura che oggi condivido anche io, però in quel periodo dicevo, la chiusura di quella famosa corso 100 celle ha imbottigliato il traffico. Quindi riordinare la via. Ma allargarci, andare a fare una viabilità costruttiva per quello che è sempre più il collegamento col porto, il retroporto è sempre più che va verso lo sviluppo di quell'area. Senti, tornando al discorso invece della dismissione della centrale Enel ed entrando più diciamo nella parte più squisitamente politica, pensi e conoscendo insomma la posizione del Partito Democratico e invece anche quella del Movimento 5 Stelle, pensi che possa nascere qualche problema all'interno della maggioranza su questo tema? Oggi frequentando Palazzo del Pincio vedo una grande sinergia. Io voglio essere corretto, io ho promesso quando nel primo consiglio ho fatto le vici della presidenza, ho aperto come consigliere anziano, per la terza volta ho voluto fare un discorso serio e ho detto io, Frascarelli e Giancarlo, poi logicamente alcune scelte dell'opposizione mi devono veder legato, faccio parte dell'opposizione, però la mia politica, cioè quella particolare, ossia quella che comprende il gruppo, del sottoscritto vedrà cominciare a fare domande specifiche nei vari settori da gennaio. Vi voglio dare sei mesi di tempo per prepararvi perché è un'amministrazione nuova, Marco Piendibene conosco, è la prima volta che fa il sindaco, tutti gli atti che io vedo che stanno arrivando sono conseguenti della politica precedente e ritengo di essere giusto, di stare nel giusto nel voler dare sei mesi di proroga. In questa sei mesi di proroga sono attento osservatore. Io vedo una grande sinergia, ma è presto, noi stiamo parlando di novembre, inizio novembre, un'amministrazione che si è insediata a luglio, agosto, settembre, ottobre, tre mesi, ma cosa, voglio dire, cosa possiamo imputare e soprattutto cosa possiamo riuscire a percepire da un'amministrazione che si è poi insediata? Il mago non lo so fare, la palla di vetro a casa non ce l'ho, non mi sono mai specializzato in arti, diciamo, quelle di previsione e quindi, caro Stefano, io ritengo che quello che vedo, ragazzi giovani, ragazzi per bene, anche giovani intendo non solo d'età, giovani anche perché sono neofiti della politica, mi sembra un bel consiglio comunale. Dare a loro lo spazio giusto e il tempo per potersi organizzare. Poi contesterò quando sarà necessario le scelte, verrò da te anche qui, non è che mi manca modo di fare l'opposizione, credo di essere nato come uomo oppositore, quindi quando poi sono nelle vesti giuste, quelle che io ritengo che siano anche più, come posso dire, nelle mie corde quando devo dire qualcosa, perché quando le devo dire a una maggioranza, sai, ma a volte mi sono trovato in difficoltà, la scorsa volta e tu spesso mi hai tirato le orecchie, però oggi posso dire, ma io mi auguro per il bene della città che le cose vanno nel verso giusto, ossia quando i consigli, che io sento dare spesso interventi di Massimiliano Grasso, di Paolo Puletti, il sottoscritto, altri consiglieri, danno consiglio, vedo che spesso c'è molto, non c'è ancora quella credine, quel contrasto, non c'è mai stato e quindi come si fa a non dare spaccature? Come dicevi, siamo all'inizio di questa nuova amministrazione, per cui bisognerà poi giudicare naturalmente nel corso del tempo, però volendo dare un giudizio di questi primi tre mesi, che giudizio daresti? Un giudizio che secondo me o stanno studiando tanto e quindi è un film che abbiamo già visto, che studiano e che quindi sono silenti perché stanno preparando delle mosse giuste per poi mostrarle alla città e noi le controlleremo con quello che abbiamo, oppure c'è un po' di sicuramente di, possiamo dire, fair play, nel senso che la partita sembra un po' lenta in questa fase, non c'è né chi spinge al contrattacco né chi si difende. Molta tattica. Eh sì. E invece all'opposizione? Che voto daristi? Beh, l'opposizione di conseguenza, nel rispetto del ruolo del governo, l'opposizione comincia a segnalare, comincia a avere sentori, ho visto delle interviste fatte di recente, io personalmente non l'avrei fatte perché non ritengo, è un mio pensiero, mio personale. A che cosa ti riferisci? A la pigoncella e altre cose, ma è giusto che l'hanno fatto, loro, sentitevi di farla, io ho un'idea diversa perché non mi sento di contestare CSP. Qual è la tua idea? No, venendo da una fase in cui abbiamo, io tre anni sono stato all'opposizione, però c'è chi è seduto in CSP comunque ha avuto dei ruoli importanti come politici, quindi contestare, inizialmente io avrei un attimino un po' scelto la linea della furbizia per cercare di vedere, però vedo che non rispondono, quindi da una parte vorrei dire, oggi se mi trovassi qui con Marco, che ne so, è deciso uno, uno dei consigli del segnalino mi va di fare nomi, perché anche Massimiliano non c'è stato mai, è stato un anno, quindi non si può imputare nulla. Però avrei detto, sei cambiato di presidenza di qua, Marco perché non rispondi quando ti attaccano che dai ruoli politici? La politica non c'è stata di qua. Io sinceramente saprei, come si dire, fare domande a tutte e due e non mi spiego perché non c'è risposta, posso capire la linea, la scelta del non rispondere e lanciare le accuse, io starei un po' calmino. Perché è stato fatto anche precedentemente dalla tua parte. Beh, ritengo di sì, i ruoli ci sono stati. Ma non pensi che la differenza sia nel fatto che però Marco Piendibene e tutto il centrosinistra hanno sempre detto, noi non daremo ruoli politici in un posto come CSP e poi invece l'abbiamo visto, no? Sarà questo. Sì, però a dirglielo dovrebbe essere chi non l'ha fatto. Chi non l'ha fatto. Se mi hai capito. Sì, sì, no, questo l'ho capito. Forse lo potevo dire io. Che non l'ho fatto. Ma se io l'ho fatto, magari non l'ha mai detto, noi non daremo ruoli politici all'interno su questo la politica. Quando si tratta di te, sai, tu me lo insegni. Si guarda il video e non la luna. Tu me lo insegni, quindi. Mi hai capito Stefano quello che volevo dire. Certo che sì, certo che sì. Allora, no. Senti, invece, Fratelli d'Italia, come si sta comportando? Fratelli d'Italia si comporta molto concentrato sul suo governo, molto concentrato sull'altro suo governo, partendo dal discorso di competenze, competenze governative nazionali, competenze governative nazionali, poi, diciamo, non ha sicuramente, stando si governa c'è meno tempo, però come si sta comportando? Valuteremo questa legge di bilancio? Sono molto attento alla nuova legge di bilancio nazionale perché mi riguarda anche da vicino come dipendente e voglio vedere che cosa saranno capaci di fare. Parlo non di Fratelli d'Italia ma proprio del governo in Todos. Vedremo, analizzeremo e poi diremo la nostra. Per quanto riguarda la politica locale, non ti so dire in questo momento, è una politica diciamo di… si fanno riunioni, ci si riunisce, però non ti posso dire altro. Non mi sembri molto soddisfatto. No, vabbè, diciamo, io sto facendo delle mie riflessioni personali ma che non riguardano, io non ce l'ho nessuno, riguardano me personalmente, sto cercando di finire un percorso, diciamo, possiamo definirlo formativo perché sto cercando di fare anche delle cose personali, si vede di solo politica e mi sto concentrando molto sui cittadini che ti dico dire, sono tantissimi e non lo dico perché sto qua davanti a te o mi devo far sentire da tanti telespettatori, tele, radio e social aspettatori, l'ho voluta dire tutta in questa nuova. Lo dico perché tra questioni che riguardano… ti fermi la mattina mentre cammini, tu da cammini perché uno poi si mette a fare un po' di dieta, si cerca di risanare un po' anche mente, mensane, incorpore sano, ti ferma la gente e quindi mi occupo di cittadini, tante problematiche, tante questioni idrico, questione fra condomini, insomma, si fa esperienza e quella mi piace di politica e sono molto preso da questa politica per cui la politica partidica io ne faccio poco. Oh, sei sempre stato una persona che insomma, no, che è andato in mezzo alla strada a parlare con i cittadini, qual è il polso della situazione? Tu che appunto ne parli con molte persone. Ma la gente dice non è cambiato niente, questa è la prima domanda, ma perché ho ancora presto, nel senso io ho detto è presto perché non si può vedere il vestito dell'indirizzo politico-amministrativo di un nuovo governo non lo si può percepire come quando si sente una mattina presso il freddo della tramontana, se non passa un periodo. Questo è un periodo in cui si comincia a vedere qualcosa, qualche azione da parte di giù. Però lo vedremo sui grandi temi, secondo me. Lì si vedrà anche la domanda che mi ha fatto in precedenza Stefano, il collante che c'è fra questi due programmi che si sono uniti, questa diciamo task force che al secondo turno è entrata in maggioranza e che comunque aveva motivo di essere perché comunque hanno fatto tanti progetti insieme anche a livello nazionale. Cioè non è che dire Cinque Stelle e PD stanno insieme è una cosa clamorosa, no, era molto clamorosa quando Cinque Stelle insieme alla Lega, ma voglio dire hanno fatto tanti governi, hanno perso, hanno vinto insieme, ci può stare, hanno molte idee comuni, però ce ne hanno tante anche diverse. Vedremo, oserei dire, tra la politica di Cinque Stelle di Cossoliniana e la politica di Dantò, voglio dare, no, di Montiana, no, Contiana, scusi, no Monti, Conte, ho voluto dare un merito a Cossolino perché l'ha rappresentato per tanti anni e la politica in città era lui che decideva. Quindi tra la politica Cossoliniana e la politica che fa riferimento, ora non so, del momento Cinque Stelle chi è proprio fedelissimo di Conte, cosa accadrà nel momento in cui ci saranno scelte importanti. Cioè tu dici che lo scontro che si sta verificando a livello nazionale... Non deve essere forse uno scontro, magari è un ragionamento, magari è un ragionamento. A me mi sembra una persona molto... non si sente un... se tu entri in comune non si sente un filo di voce, c'è un silenzio assordante. Di conseguenza mi sembra persone molto ragionevoli. Io non mi sento di criticarli perché non vedo ancora cose da dire. Sento rumors di chi... ma questi potranno... ma oggi non so dire. Devo farti una domanda. E fammene anche due. Tanto... Ma perché in tutto questo ragionamento che abbiamo fatto in questa mezz'oretta, abbiamo appunto qualche minuto ancora, però ti ho sentito parlare molto bene dell'attuale maggioranza. Non vuole passare in maggioranza. Ecco. Non è il mio interesse. No, eh? No. Siamo sicuri. Perché mi hai passato una domanda? Perché è un punto ti ho fatto... Ma insomma, essere corretto, perché devo fare l'opposizione contro chi... Mi vedrai a gennaio-febbraio quando verrò a ribadire cose che adesso prendendo l'articolo 51, 52, gli articoli che servono per fare segnalazioni, anche... Non solo per quello, in realtà servirebbe per altro, però noi li utilizziamo spesso come hanno fatto loro per fare segnalazioni, che faremo prima in modo pagato, poi in modo un po' più operativo e poi faremo opposizione. Perché poi, voglio dire, la città è quello che è. Noi, le cose che noi abbiamo fatto, io per questo do i sei mesi. Perché le cose che sono da addebitare alla politica precedente bisogna dare tempo per farla. Poi, come dici tu, se tu l'hai contestata e non la fai, non è che poi ti puoi coprire di avere affatto che non l'ho fatta io, la devi fare, perché poi si è amminista, eccetera. E quindi in quel momento tu vedrai Giancarlo Frascarelli fare opposizione. Vedremo come, dove, però... E allora ci rivediamo fra sei mesi, no? Magari anche prima. Ma sì, ci vedremo con gli auguri di Natale. Quello è poco ma sicuro. Grazie davvero Giancarlo per essere stato con noi. Ah, grazie a te. Grazie. Grazie naturalmente anche a voi per averci seguito. Una buona serata a tutti. 1976, Radio Stella Città, sempre in onda, mai interrotta. Trasmissioni, news, novità, musica, sport, curiosità. Radio Stella Città, ogni giorno più colore, energia. Radio Stella Città, la colonna sonora della tua giornata. Numero uno, i web in FM. Radio Stella Città.